Il giornalismo cinematografico, come si fa? Come si intervista un talent, un attore, un'attrice, un regista? Cosa gli si chiede? Come si cerca di far venire fuori la sua verità? Come si riesce a non farlo incazzare? Come si riesce a farsi dire qualche cosa di più di quello che gli altri si fanno dire? Questo è uno dei problemi del giornalismo. Poi, come si scrive questa intervista? Bisogna dire esattamente tutto quello che ha detto nella forma in cui lo ha detto o si riscrive, si rielabora, si digerisce, si cerca di porgerlo in qualche modo al lettore? È meglio un'intervista video-radio? È meglio scritta? Come si fanno le introduzioni alle interviste? Quanto ci si deve preparare prima e quanto si deve improvvisare? Tutto questo nel corso che curerò per la Scuola di Cinema Immagina da lunedì 4 ottobre alle ore 18 via Zoom. Quindi iscrivetevi a cinemaimmagina.it, telefonate allo 055 283 282 e scrivete, se no, a giovanni.bogani.gmail.com Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!